Rendere più serena anche per i piccoli pazienti l'esperienza sulla poltrona del dentista è l'obiettivo dello studio odontoiatrico della dottoressa Paola Lettini che da anni accoglie i pazienti con la più cordiale disponibilità in una struttura moderna e piacevolmente confortevole. Ho sempre amato i bambini e quindi quando ho conseguito la laurea in odontoiatria nel lontano 99 presso il Policlinico Gemelli dell'Università Cattolica di Roma ho deciso poi di intraprendere la scuola di specializzazione in ortoniato d'onzia che mi consentiva di lavorare costantemente con i bambini. Quello che io mi porto dentro è un'esperienza che ho avuto quando ero piccolina non estremamente positiva. Ricordo che mia madre costantemente mi abbia detto poi nel tempo che avevo sempre manifestato il desiderio da grande di diventare una dentista per i bambini. Lo studio si avvale di un'equipe medica e paramedica adeguata per ogni età del paziente che gestisce i piani di cura in maniera multidisciplinare al fine di garantire il massimo delle qualità delle prestazioni. L'ambiente accogliente è uno dei punti di forza dello studio dentistico. Ogni ambiente è decorato con colori diversi, una scelta che non è affatto casuale. È stata una scelta studiata per richiamare visivamente gli elementi essenziali per la vita di un individuo e per l'universo nella sua interezza che sono l'acqua, la terra, la luce. Noi abbiamo la stanza gialla, la stanza arancione, la stanza blu e la stanza verde. La cosa che mi sta più a cuore da sempre è nel momento in cui arriva un paziente qui in studio indipendentemente dall'età o da chi lo accompagna è prendermi cura della persona nella sua interezza. Il paziente come utente di cura odontoiatrica arriva solo in un secondo momento. Io in prima persona e tutto il mio staff, soprattutto le mie collaboratrici, il nostro primo pensiero è occuparci dell'accoglienza. Il paziente deve sentirsi a suo agio, deve sentirsi veramente al centro della nostra attenzione. Il successo terapeutico è garantito veramente da una collaborazione, una cooperazione a 360 gradi. Tra le tecnologie all'avanguardia è il servizio di radiologia che consente di eseguire qualsiasi tipo di radiografia odontoiatrica necessaria per una curata di annosi delle problematiche dentali. Noi eseguiamo dalle radiografie endorali, che sono radiografie piccoline eseguite in poltrona di uno o piccoli gruppi di denti, all'ortopanoramica delle arcate dentarie, che chiaramente consente di osservare nella sua interezza tutta la bocca, entrambe le arcate dentarie, telecranio latero-laterale e postero-anteriore, che sono due radiografie soprattutto per la diagnosi ortodontica di un paziente, ed infine la TAC, la TCC-POMBIN. Il secondo fiore all'occhiello di questo studio è la scansione digitale. Ogni scanner è fornito di un manipolo, che è questo, il quale inserito nella bocca del paziente consente di rilevare l'immagine delle arcate dentarie. È una branca di grande interesse da parte degli adulti, perché sappiamo quanto sia importante nelle relazioni interpersonali il sorriso e quanto disagio, imbarazzo ed incertezza possa creare nell'animo delle persone invece una bocca trascurata per tanto tempo, per diversi motivi.